Bene, torniamo in diretta ma ci trasferiamo subito a Silvi. Tutto live, sta parlando proprio Salvini. Imprenditori, amministratori locali, professionisti che entreranno, che daranno una mano. Per il 2024 l'Abruzzo ha il rinnovo della regione, dove l'obiettivo è vincere, con la Lega Determinante e poi le elezioni europee. Da ministro delle infrastrutture sono orgoglioso perché in dieci mesi, per carità miracoli, non se ne fanno però, l'attenzione che abbiamo dedicato all'Abruzzo, il tema dell'A24 che ho ereditato e dell'autostrada in assoluto, su cui ho fatto più riunioni, ho incontrato più sindaci, operai, ingegneri, amministratori, la voglio chiudere come situazione, risolvere. E poi c'è il tema della Roma Pescara, della ferrovia, su cui vogliamo accelerare, c'è il tema dei porti da dragare, c'è il tema del sistema aeroportuale, ci sono case, ci sono dighe, quindi devo dire che in questi dieci mesi penso che gli abruzzesi abbiano toccato con mano il cambio di passo. La Lega ha perso dei pezzi in consiglio e in giunta, interverrete se si come? Se esce una persona ne entrano due, c'è bisogno di energie nuove. Io ho chiesto a Luigi Deramo, che ha la mia totale fiducia, di aprire, di allargare. Se qualcuno lascia perché è attaccato alla poltrona, a me interessa che qualcuno entri a portare energia nuova. Quindi noi siamo leali alla maggioranza, l'ho detto stamattina a Bari, il governo di cui facciamo parte durerà cinque anni. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto per l'Abruzzo e non vedo l'ora di tornare la prossima volta perché avrete delle belle novità come nuove energie per la Lega. Grazie.